Il viaggio di Papa Francesco in Corea prosegue tra l'entusiasmo e la gioia. Subito dopo l'incontro con le autorità, il Pontefice si è recato nella sede della conferenza episcopale locale, dove ha ricevuto l'abbraccio dei Vescovi coreani. Dopo aver ricordato l'esempio dei martiri, Papa Bergoglio ha chiarito che essere custodi della memoria significa qualcosa di più che ricordare e fare tesoro delle grazie del passato, significa anche trarne le risorse spirituali per affrontare con lungimiranza e determinazione le sfide del futuro. E per procedere lungo questo itinerario è fondamentale essere anche custodi della speranza, quella speranza offerta dal Vangelo della grazia e della misericordia di Dio in Gesù Cristo. Ai presuli il Papa ha chiesto quindi di essere vicini ai propri sacerdoti e di essere sempre solleciti verso chi è nel bisogno, senza ridursi alla sola dimensione assistenziale e dimenticando la necessità di ognuno di crescere come persona. Contro ogni tentazione mondana, il Pontefice ha chiesto infine a tutti di offrire ogni giorno la testimonianza vissuta di una Chiesa povera per i poveri.